E' qui, hop, hop, vai di sotto, vai sotto! Sbagliato l'occhio, vedi, un attimo sbagliato l'occhio. Atteniamo il passaggio, ci va a insegnare il ruolo. Il tempo per questa prima batteria è lì. 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 però se lo faccio così è stato un po' dov'è? è già là? è già là? campione italiana gli agendetti junior l'arrivo dipendiamo commerciale della mano Grazie a tutti. Tommi, hai capito? Alla manina, che qua è la grida? Vai Tommi! Vai Tommi! Dai Tommi! Vai Tommi, non ti lo scatto! Con tutta calma, con scusa. Dai! Dai Riccardo! Dai Ricchi! Dai Ricchi, adesso. Dai Ricchi! 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 Vai, vai! Vai Tommy! Vai, bravo! Vai, Tommy! Vai, Tommy! Vai, Tommy! No! Come, come, come. Qua sono tutte rotte. Io sono tutte rotte. Io non mi muovo più di qua. Green! No, ecco il bambino. Ah, e poi c'è? No, sotto. No, qua, è da qua. Oh Dio, non pensate ancora salutati? No. Hai portato la griglia? No. Siamo un po' in collinezza. In collinezza qua.